Oggi sono qui per darvi una brutta notizia. Quando scattiamo una fotografia sia che stiamo usando una fotocamera sia che stiamo usando uno smartphone spesso e volentieri il file non è pronto a essere postato direttamente sul nostro social preferito. Ma non vi preoccupate, nel corso del video di oggi andremo a vedere come si fa lo sviluppo digitale di un file con Luminar Neo, un software che ci dà accesso a un modulo di sviluppo completo tanto quanto quello di Lightroom o Photoshop Camera Raw. E nel corso di questo video andrò a farvi vedere passo per passo tutto quello che vogliamo o possiamo fare su un file raw, quindi su un negativo digitale di una nostra fotografia. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Ho sempre utilizzato Photoshop e Lightroom per post produrre le mie immagini ma oggi voglio farvi vedere qualcosa di simile ma diverso, uno strumento che ci dà qualche possibilità creativa in più. Prima di cominciare, appassionati di fotografia, sviluppo digitale e grafica da tutto il mondo, io vi ricordo che chi di voi non fosse ancora iscritto può farlo subito cliccando il bottone qui sotto, a voi non costa assolutamente niente ma al canale date una grandissima mano. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo aperto Luminar Neo è andare a importare le nostre fotografie, quindi selezioniamo un'immagine a nostra scelta, io ho scelto questa, la trasciniamo dentro ed eccoci qui dentro nel modulo di Luminar Neo. Ora, noi abbiamo un catalogo, come potete vedere il catalogo attualmente contiene una sola immagine, se facciamo doppio clic sull'immagine la apriamo. Qui sulla destra possiamo vedere tutta una serie di dati, quindi possiamo vedere con cosa è stata scattata, che cosa ho utilizzato, vediamo che è un file RAW, possiamo vedere tutti i dati grezzi come la risoluzione, l'ottica che è stata utilizzata, i valori, quindi gli ISO, i tempi e la modalità con cui è stata scattata e vediamo che il bilanciamento del bianco era manuale. Noi possiamo andare direttamente nel modulo di modifica delle immagini, quindi una volta che l'abbiamo aperta andiamo su modifica e qui sulla destra abbiamo tutti i pannelli che ci serviranno per modificare la nostra immagine. La prima cosa che vogliamo andare a fare ovviamente è trovare il modulo sviluppo. Vedete che c'è la scritta RAW qui di fianco, perché questo modulo di sviluppo è disponibile solamente se stiamo lavorando su un file RAW, proprio come quest'altra parte, sarà disponibile solamente se lavoriamo su un file RAW, quindi non sui JPEG. La prima cosa che andiamo a fare è che vogliamo andare ad attivare un po' di spunte su queste opzioni per l'ottica. In questa maniera andiamo a rimuovere un po' di problemi che possiamo trovare nella nostra ottica, andiamo a spuntare tutte e tre queste caselle in maniera tale che il software si prenda cura al posto nostro di alcuni aspetti che possono essere problematici su alcune ottiche. In questo caso io vi dirò che francamente non vedo la differenza, però è bene fare quest'operazione perché su alcune ottiche ce n'è assolutamente bisogno. L'altra cosa che andiamo a fare subito è il pannello trasforma. Come potete vedere qui abbiamo la possibilità di distorcere la nostra immagine e questo serve se abbiamo a che fare con delle prospettive che vogliamo correggere in postproduzione. Io vi dirò che mi affido all'automatismo perché Luminar Neo è famoso per avere un'intelligenza artificiale che lavora al posto nostro e quindi ho intenzione di sfruttarla il più possibile per avere tutte queste linee belle dritte. Io direi che si è preso cura egregiamente della cosa perché le linee verticali che vedo sui lati dell'immagine sono dritte, quindi a questo punto possiamo passare al prossimo pannello. La prossima cosa che vogliamo andare a fare è prenderci cura della nitidezza, per cui qui abbiamo un pannello dedicato, vado a chiudere quello che non mi serve più, qui abbiamo il pannello della nitidezza e il pannello della riduzione rumore. Ora per vedere bene quello che stiamo facendo io vi consiglio di zoomare un pochino, nel mio caso vado al 100% che è sempre la cosa migliore. A questo punto scegliamo un punto dove vediamo bene i dettagli della nostra immagine e andiamo a aumentare questo valore. Dopodiché andiamo ad aumentare anche la definizione. Una cosa che ho scoperto è che definizione e riduzione del rumore lavorano in tandem, per cui calcolando una scala da 1 a 100, se tu vai a dare un valore a uno dei due parametri vai a dare la sottrazione all'altro parametro. Quindi per esempio se io do 90 al primo parametro vado a dare 10 al secondo. In questo modo ho notato che lavorano bene e non sono stato l'unico a dirlo. Andiamo a vedere un prima e un dopo così ci rendiamo conto e vedete che già qualcosina l'abbiamo modificato. Ma siamo solamente all'inizio. A questo punto andiamo a modificare la mascheratura che serve a rimuovere la nitidezza dove non serve, come per esempio in questa foschia, in questo cielo qui non c'è bisogno di aggiungere nitidezza perché aumentiamo solo il rumore. Quindi andiamo a tirare su questo valore e tra 60 e 80 secondo me è sempre un valore ottimale, ma dipende ovviamente dalla fotocamera che avete usato e dal tipo di immagine. Così a me sembra che vada bene. Andiamogli un'altra toccacciatina. Sì forse ce n'è bisogno di meno perché i dettagli sono abbastanza piccoli. Ed eccoci qua. Una volta che ci siamo presi cura di nitidezza e riduzione del rumore andiamo a vedere un aspetto che per me è molto importante e spesso e volentieri un po' bistrattato. Qui in cima potete vedere che abbiamo il profilo della fotocamera. È impostato di default su Luminar ed è una cosa che noi andremo a rispettare perché lo terremo così. Però è importante sapere che ne esistono tanti altri anche di terze parti. Per cui abbiamo Adobe Standard derivato da Adobe. Abbiamo tutta una serie di preset della nostra fotocamera. Quindi abbiamo un preset monochrome. Abbiamo tutta una serie di parametri come il neutrale, il paesaggio, il fedele. Questi sono tutti profili che ci aiutano ad avvicinarci al risultato finale che vogliamo ottenere ma hanno il vantaggio di essere dei metodi completamente privi di caduta qualitativa. In questo momento stiamo ancora lavorando sul file raw, quindi sul file grezzo. Quindi quello che facciamo in questo momento non comporta una caduta qualitativa, una degenerazione del file. A questo punto possiamo andare a occuparci di un aspetto molto importante ovvero l'esposizione. Andiamo ad aprire luce e bianchi e neri. Ora la postproduzione per quanto riguarda questo pannello è abbastanza soggettiva. Vedete qui che si è illuminata un'area rossa. Questo succede perché io ho premuto il tasto J sulla mia tastiera. Vado a zoomare un pochino così lo vediamo meglio. Se io premo il pulsante J attivo le notifiche degli highlights bruciati e delle ombre bruciate. Quindi in questo modo vedete che abbiamo delle aree dove io devo andare ad abbassare le luci. In questo modo riesco a recuperare qualcosina anche se forse non completamente. Ok abbiamo recuperato le luci in quell'edificio centrale. Mentre quello sulla sinistra rimane l'highlights acceso perché è probabile che il dettaglio lì sia completamente compromesso. È troppo sovraesposto e non può essere recuperato. Questo è un peccato ma è un dettaglio secondario perché è una porzione molto piccola dell'immagine. Andiamo a vedere cosa succede se tocchiamo i neri. Ovviamente se li abbassiamo a meno 100 vedete che abbiamo perdita di dettaglio che viene segnalata in blu. In questo caso ci interessa molto poco perché adesso io vado a riaumentare questo valore fino ad avere una perdita pressoché nulla sulle ombre. Potrei anche attestarmi in questo punto così ho creato un po' di contrasto. Vado ad aumentare un pochino anche i bianchi creando ulteriormente contrasto ma senza tornare a scoprire gli highlights alert sulle parti che ho recuperato in precedenza. Quindi in questo modo dovrei ottenere un'esposizione più bilanciata. In effetti vedete che l'immagine mi sta dando qualcosa in più di prima. Abbiamo aumentato il contrasto. Adesso andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa anche sull'esposizione. Vedete l'esposizione io in questo caso non la toccherei perché era abbastanza bilanciata come era stata fatta all'inizio. Doppio clic sull'esposizione e torno a zero. Una cosa invece che è molto interessante è il micro contrasto o contrasto intelligente. Andiamo a vedere come si comporta e vedete che in questo caso mi rende l'immagine molto più tridimensionale. Bisogna stare attenti a non dargliene troppo e una buona regola è quando lo vedo, in questo momento lo vedo, torno a metà del valore in cui ho cominciato a percepirlo nettamente. In questo modo gliene ho dato un po' ma non troppo perché il nostro occhio spesso e volentieri ci inganna. Andiamo a vedere un prima e un dopo e ci rendiamo conto insomma che dei cambiamenti li abbiamo già fatti anche abbastanza importanti anche se è difficile rendersene conto. A questo punto di che cosa ci andiamo a occupare? Intanto chiudiamo quello che abbiamo fatto fino adesso perché una volta fatto tendenzialmente non ci torneremo più. Abbiamo la possibilità di lavorare anche sulle curve che è una cosa che io normalmente non faccio perché mi sono preso del tempo per lavorare su luci, ombre eccetera quindi andare ulteriormente a lavorare sulle curve è una cosa che solitamente preferisco non fare, preferisco cavarmela con un passaggio solo se posso perché meno lavoriamo la nostra immagine più naturale sarà. Allora chiudiamo questo pannello e andiamo invece a occuparci del colore. Questa sì che è una cosa di cui assolutamente dobbiamo prenderci cura. Come potete vedere qui abbiamo la possibilità di scegliere il colore come è stato scattato dalla macchina, abbiamo anche la possibilità di impostare degli altri parametri come luce del giorno, nuvoloso, insomma abbiamo diverse possibilità di bilanciamento del bianco già preimpostato che a seconda del tipo di luce che vogliamo ottenere e del tipo di luce che c'era effettivamente sulla scena ci darà effetti diversi che potremmo considerare creativi. Come potete vedere la maggior parte sono abbastanza fantasiosi, noi torniamo a come è scattato, possiamo anche gestire queste operazioni manualmente, quindi io posso prendere questo fader e tirarlo verso il blu, quindi abbassare la temperatura, oppure posso alzare la temperatura e andare quindi a portare la mia immagine verso i gialli. In questo caso io vado ad attestarmi su 5600 che è il bilanciamento dei light e per quanto riguarda la tinta non mi discosto troppo da quello che era stato fatto, anzi potrei tenere un valore molto molto vicino a quello che era stato catturato dalla macchina perché l'avevo impostata e probabilmente era corretta così. Saturazione e vividezza? Ora la saturazione si occupa di rendere più vividi i colori ma lo fa in una maniera abbastanza distruttiva, infatti come vedete se lo aumentiamo troppo l'immagine comincia a sembrare un po' finta. Per questo motivo noi la saturazione la useremo molto poco, useremo la vividezza che è un altro metodo di dare brillantezza ai colori però in maniera meno distruttiva e di saturazione gliene daremo poca poca poca. In questo modo riusciamo a tirare fuori un po' più di colore ma senza tirare fuori fintume dalla nostra immagine che vedete rimane abbastanza naturale. Una volta che ci siamo presi cura del nostro colore è il momento di chiudere questo pannello, a questo punto possiamo andare a occuparci della rimozione dei punti. In questo caso vedete che abbiamo delle opzioni automatiche, noi in questo caso possiamo andare a rimuovere i cavi della luce che qui non ci sono oppure a rimuovere la polvere sul sensore, quindi qualunque cosa si sia depositato sul frontale dell'obiettivo o sul sensore che verrà visualizzato come puntini sulla nostra immagine soprattutto nel cielo, possiamo andare a rimuoverlo automaticamente usando l'intelligenza artificiale di Luminar Neo. Io adesso gli lascio fare questa operazione che richiede qualche secondo, qui non c'era granché da rimuovere quindi non credo che farà chissà quale lavoro però nel caso ci fossero degli spot, dei dust spot che io non vedo, in questo caso vengono rimossi automaticamente e io posso completamente disinteressarmene. Qui vedete che è rimasto qualcosa però in questo caso io credo che fossero un uccello e un aereo, non so se riuscite a vedere, io credo che fosse un aeroplano questa roba qui. Andiamo a vedere il pannello Migliora Con, un pannello che ho trovato interessante perché fa utilizzo di intelligenza artificiale e noi qui possiamo andare a dargli quello che lui chiama accento. Questi a me sembra di aver capito che sono tutti metodi che lavorano sulla saturazione e sul microcontrasto in modo da, come vedete, da tirare fuori tridimensionalità dall'immagine e qui possiamo anche andare a Migliora Cielo. Questa è una cosa che sicuramente funzionerebbe meglio se ci fossero delle nuvole. In questo caso gliene do solo un pochino per renderlo un po' più blu, togliere un po' di foschia. Qualcosina come vedete fa, anche se fa fatica perché questo cielo era veramente bruttino. Una cosa che prima non vi ho detto, noi abbiamo questi occhietti, abbiamo l'occhietto in basso che è generale e quello serve a vedere com'era l'immagine cruda e com'è l'immagine allo stadio attuale di lavorazione, ma noi abbiamo anche l'occhietto del singolo pannello che stiamo usando. Così possiamo vedere che cosa sta facendo quel pannello rispetto al totale dell'immagine e delle modifiche che avevamo già fatto in precedenza. Ora andiamo a vedere questi altri pannelli, andiamo a vedere struttura, di nuovo fa utilizzo di intelligenza artificiale. In questo caso io non sono riuscito a capire esattamente su che parametri lavora, però anche qui mi sembra che stia lavorando sul microcontrasto, una sorta di contrasto intelligente che va a cercare di darmi più dettaglio senza deteriorare l'immagine e agendo un pochino anche sui colori e sulla saturazione. Quindi cerco di dargliene poco perché non voglio esagerare, voglio continuare a mantenere la mia immagine più naturale possibile. In questo caso sì, gliene ho dato veramente poco, ma diciamo che va bene così perché faremo altre cose. Come potete vedere qui abbiamo un pannello dettagli e questo è più specifico di quello che avevamo prima, perché qui possiamo aumentare i dettagli nelle zone di dettaglio piccolo, nelle zone di dettaglio medio e di dettaglio grande. Questo significa che possiamo essere molto incisivi perché possiamo dirgli esattamente che vogliamo un certo quantitativo di dettaglio in porzioni dell'immagine che presentano un dettaglio fine o un dettaglio macroscopico. Questo l'ho trovato abbastanza interessante. Per quanto riguarda i dettagli della mascheratura andiamo a dargli un valore medio alto proprio come visto in precedenza, quindi da 60 in su. In questo modo andiamo ad applicare questo incremento dei dettagli solamente sulle porzioni dell'immagine che lo richiedono, le porzioni dove c'è effettivamente del dettaglio da portare fuori. Quindi di nuovo il cielo escluso da questa operazione. Molto bene, a questo punto andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. Se scrolliamo, arriviamo alla tab paesaggio e qui io ho scoperto delle cose molto interessanti. È qui che questo software comincia a discostarsi da quanto abbiamo visto in precedenza su altri software di Adobe. Come potete vedere qui abbiamo ora dorata e guardate che cosa fa. Questo l'ho trovato molto interessante. Praticamente nelle zone più illuminate sta andando ad aggiungere la colorazione della Golden Hour. Una cosa che ho trovato molto carina perché anche se non è scattata la Golden Hour questa foto risulta con un effetto molto gradevole. Abbiamo poi migliora foliage e qui potete vedere molto chiaramente che stiamo andando ad agire sulle cime degli alberi. Vedete dove ci sono degli alberi ovviamente? Stiamo andando ad agire su quelle colorazioni. Abbiamo anche la possibilità di cambiare il colore delle foglie. Quindi questo è molto utile se vogliamo creare un finto autunno o se viceversa vogliamo dare più verde alle foglie degli alberi. È una cosa che possiamo fare per far sembrare diversa la stagione in cui abbiamo scattato le fotografie o semplicemente per amalgamare meglio i colori della nostra scena all'interno della nostra cornice. Siamo arrivati fin qui, di modifiche ne abbiamo fatte parecchie. Andiamo a vedere il pannello mistico. Questo è una cosa che non vi ho detto. Come potete vedere noi qui abbiamo la possibilità di andare a leggere che cosa farà il pannello che abbiamo aperto. Quindi se abbiamo un dubbio possiamo andare a vedere le informazioni. Di nuovo questo è un pannello che cerca di sostanzialmente di rendere più bella la nostra immagine andando a introdurre micro contrasto e saturazione vividezza smart. Come potete vedere di solito io ottengo dei valori molto bassi in maniera da rimanere naturale. Andiamo a vedere che cos'altro possiamo fare e qui abbiamo il pannello super contrasto. Anche questo l'ho trovato molto interessante perché possiamo agire proprio come prima singolarmente sul contrasto delle alte luci e qui andiamo a dargli un valore di questo tipo sul contrasto dei mezzi toni e qui probabilmente è dove questo software può dare il massimo perché vedete come la tira fuori ma in maniera tutto sommato naturale. Abbiamo la possibilità di lavorare anche sul contrasto delle ombre quindi possiamo gestire separatamente questi tre parametri. Questa cosa l'ho trovata molto interessante perché in altri software è molto più difficile di così da fare. Qui l'ho trovato molto semplice spiegato su questo pannello e riusciamo a ottenere un risultato che incrementa parecchio la tridimensionalità della nostra fotografia. Andiamo a vedere un prima e un dopo. Vedete che tanto è stato fatto. La nostra immagine ha cambiato completamente forma. A questo punto direi che possiamo andare a ritagliarla e qui abbiamo delle opzioni di ritaglio molto classiche. Come potete vedere abbiamo tutti i formati che possono servirci nella vita sia quelli social sia quelli stampa. Adesso andiamo a selezionare un bel 16 noni perché questa è una panoramica e quindi è una fotografia di un panorama. Andiamo a posizionare i nostri terzi sull'orizzonte e andiamo a dirgli applica. In questo modo la nostra immagine viene rifilata ed è pronta per l'utilizzo che avevamo in mente, quale che questo sia. Ok eccoci qui. La nostra fotografia riempie il quadro in maniera diversa perché è stata rifilata secondo le nostre indicazioni. Andiamo a vedere però che non abbiamo ancora finito perché ci sono altre cose che possiamo fare. Una delle mie funzioni preferite di Luminar Neo è la funzione cielo che è uno sky replacement. Sapete che certi software ci danno la possibilità di sostituire il cielo e qui vedete che lo possiamo fare in maniera brutale e tutto sommato lui fa anche un bel lavoro perché nonostante sia una scena impossibile così risulta abbastanza naturale. Non è credibile ovviamente specie per chi è stato a Torino però non è neanche un brutto lavoro. Noi però abbiamo la possibilità di andare a selezionare un cielo più adatto per la nostra scena. Quindi vedete che qui abbiamo una libreria di cieli già impostati. Possiamo poi caricarne degli altri, addirittura comprarne degli altri ma quindi abbiamo parecchi già caricati e ovviamente più ne troviamo uno che vada bene per la nostra scena più il risultato finale sarà credibile. Come potete vedere alcuni si sposano bene altri sembrano completamente sbagliati. In questo caso questo sembra sbagliato perché la luce viene dalla direzione sbagliata ma noi abbiamo la possibilità di andare a invertire il nostro cielo per far provenire la luce dalla direzione giusta il che rende la nostra immagine un po' più credibile. Andiamo a vedere questa è impossibile perché il sole dalla parte sbagliata vedete questa pure il sole dalla parte sbagliata quindi dobbiamo essere noi a scegliere con oculatezza. Questa potrebbe potrebbe fare al caso nostro. Vado a rimetterla come era prima così la luce viene dalla direzione giusta e questa vi dirò che non mi dispiace. Se ve la faccio vedere così probabilmente pochi di voi si accorgono che è stata ritoccata e questo ovviamente è il momento che vi avevo preannunciato in cui avremmo fatto delle cose che possono essere considerate barare. Ovviamente uno sky replacement significa manomettere la scena. Noi qui possiamo anche andare ad agire sulla mascheratura in maniera tale da rendere più omogeneo il passaggio tra il cielo finto e il cielo vero. Ovviamente dovremmo andare a ingrandirla parecchio per vedere come si comporta. Andiamo a ingrandirla un pochino. Devo dire che in questo caso i contorni erano molto ben definiti. Io trovo che abbia già fatto adesso quando quando si decide a farcela vedere ma io trovo che abbia già fatto un ottimo lavoro anche da sola. Vedete praticamente ha già azzeccato tutto ha lasciato i fili che si vedono le colonnine si vedono bene i dettagli all'interno le nuvole si vedono bene anche all'interno quindi grosso modo ci ha già pensato da solo. Una cosa bellissima che possiamo fare però è questa. Adesso lo lascio caricare un attimo e poi vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo che è arrivato. Vedete questa è la miscelazione del colore del nostro cielo finto aggiunto la miscelazione tra il colore del cielo e il colore della nostra fotografia. Questo serve ad amalgamare le due cose creando un effetto realistico. L'ho trovato veramente molto ben fatto perché ci dà un risultato che sembra credibile santo cielo. Abbiamo anche la possibilità di andare ad agire sulla sfocatura sulla foschia. Queste sono tutte cose che possiamo andare a utilizzare nel momento in cui vogliamo rendere più naturale il nostro cielo miscelarlo meglio con il tipo di ambiente che avevamo dietro nella fotografia reale. In questo caso vedete che io così ho aumentato un pochino in qualche maniera l'esposizione. Devo dire che così io lo trovo abbastanza credibile. Se mi facessero vedere questa foto io non so se la prima cosa che penserei è che il cielo è stato aggiunto. Non credo che sarebbe la prima cosa che penserei. A questo punto andiamo a vedere come si esporta l'immagine. Dobbiamo fare esporta non esporta in che poi ci manda in altre applicazioni. Andiamo a esportare ci si apre questa finestra di dialogo dove noi possiamo andare innanzitutto a decidere dove salvare la nostra immagine. Non me la fa spostare però qui posso scegliere dove posizionare il mio file. Possiamo andare a selezionare la messa a fuoco bassa media o alta. Questa è la nitidezza se vogliamo aumentarla per schermi. Io in questo caso non lo faccio. Dimensione possiamo andare a scegliere diverse opzioni tra cui per esempio abbiamo margine esteso e possiamo scegliere la dimensione del margine più esteso e l'altro verrà fuori di conseguenza. Oppure possiamo andare a impostare le dimensioni di entrambi i margini. In questo caso però io lo lascerò come originale. Lasciamo sRGB. Potremmo mettere Adobe RGB o Profoto addirittura ma in questo caso lasciamo sRGB perché stiamo lavorando per il digital. JPEG. Opzione migliore per i social per quanto riguarda le fotografie. PNG per certi siti web ma tendenzialmente userai il JPEG anche lì. Poi abbiamo altre opzioni come per esempio abbiamo il TIFF che è quello di massima qualità per la stampa. Abbiamo la possibilità di salvare in Photoshop e cosa interessante così se vogliamo riaprire questo file in Photoshop per modificarlo ulteriormente lo possiamo fare. Risoluzione. Se vogliamo stampare andiamo a impostare 300. Se vogliamo andare semplicemente sui social o su un sito web qualsiasi lasciamo 72. Qualità. Mai scendere sotto 85 perché perdiamo tanta qualità. Io di solito la metto a 100 così abbiamo una buona definizione. Andiamo a dirgli salva e ci ritroviamo la nostra fotografia esportata e post prodotta nella location che gli abbiamo detto. Ora questo video sembra lungo e effettivamente lo è. Questi sono tutti i step che noi possiamo portare avanti sulle nostre fotografie. Non siamo costretti a farli tutti però capite bene che la fotografia come era all'inizio e la fotografia come alla fine sono molto diverse. Prendere la fotografia così come era all'inizio e postarla direttamente sui social o in qualunque altro posto è molto riduttivo perché ci priva della possibilità di sviluppare il file che non è barare. Cambiare il cielo alla fine quello è stato barare però sviluppare il file non è barare perché noi stiamo semplicemente utilizzando delle informazioni che sono presenti nel nostro file che la nostra macchina ha catturato ma siccome i parametri come avete visto sono tanti e la macchina da sola non sa decidere come sviluppare questo file in realtà possiamo dire alla macchina sviluppamelo tu scattando direttamente in jpeg ma non avremo mai questo risultato perché la macchina farà un'operazione più semplice e senza capire che cosa sta facendo lo farà in maniera numerica e automatica mentre noi andiamo a muovere questi cursori per ottenere il risultato che vogliamo. In questo caso il risultato che otteniamo alla fine è lasciatemelo dire un tantino più potente rispetto alla fotografia originale come era scattata dalla macchina. Questo non perché la macchina scatti male ma perché appunto i dati grezzi devono essere riorganizzati per creare l'immagine, l'opera che poi andiamo a distribuire, pubblicare, divulgare tutto quello che ci vogliamo fare. Amici io spero che questo lunghissimo tutorial su Luminar Neo vi sia piaciuto. Fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. Vi ricordo anche di iscrivervi per rimanere aggiornati perché ne riparleremo soprattutto se mi dite che questo tipo di video vi può interessare. Vi lascio anche un link in descrizione da cui potete andare a vedere se l'offerta di Luminar Neo vi può interessare. Andate a scoprire giù in descrizione o se mi ricordo ve lo lascio anche nel primo commento. Vi ricordo che io rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali per cui iscrivetevi adesso in maniera tale da non perderveli. Grazie a tutti di aver pazientato fino a questo punto. È stato un piacere come sempre passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.